th3goz quest'oggi ragazzi c'è lo shop aggiornato nuova skin tra l'altro e vediamo no non si può fare ok c'è questa skin qui del cactus con il suo piccone che è questo è ritornata nello shop anche omen e il suo piccone dopodichè c'è guerriera della high gland non so che skin sia però è una skin abbastanza forte c'è infiltratore e questi due balletti il piccone da 500 vbac e 10 livelli più 500 punti esperienza del pass battaglia questo è lo shop aggiornato di oggi mettete like al video iscrivetevi al canale ciao